ah ok allora intanto non eravate in sopravvissuto e non in modalità normale media di difficoltà non difficile non apocalisse e non te ne fai un cazzo perché cattà sbagli mine non ho neanche un non abbiamo ancora scurato l'apri scatola io non ce l'ho io sono dentro che sto lavando i vestiti avevi ammazzato un bel po di gente beh no dietro ti ricordi c'era il cimitero è la partita dove abbiamo fatto le buche per metterci dietro gli zombie mi sembra se devo andare a vedere allora la mandaia la lasciamo qua stasera vi devo mangiare la pizza gianni e remo ma si mi ho detto appunto se volete passare volentieri settimana prossima sono a casa ancora madonna c'è anche fabio e tu stai meglio possiamo portare il computer qua magari e faccio una partita di adesso vediamo ah perché fabio è a casa fabio dovrebbe essere a casa di fronte a casa a me ci sono una quindicina di zombie sto guardando sul retro com'è la situazione e sul retro ce n'è solo uno l'ho già ammazzato prendi ampu allora afferra il cadavere al gabara se seppelisci il cadavere eh sono tanti zombie qua davanti va mi serve una mano per ucciderli quando sei pronto vieni che magari in due li attiriamo un po' la volta beh tipo lì nelle mod che ho scaricato c'è una mod che praticamente ti permette di coltivare tutti tutte le verdure del gioco perché se tu fai una partita ne puoi coltivare tipo solo 7 o 8 tipo l'insalata i peperoni non puoi coltivarli invece in quella mod lì ci sono tutte quante le piantagioni che mancano nella versione normale capito ci sono tutti i veicoli degli anni 70 della toyota ci sono i veicoli militari americani e russi degli anni 80 perché il gioco è ambientato nel 93 quindi ha senso mettere delle auto di 10 anni prima perché probabilmente sono ancora in giro che girano le auto degli anni 70 e 80 e 90 perché il gioco appunto ti dicevo è ambientato nel 93 comincia il 9 luglio del 1993 l'infezione qua so che c'è una mod ma non so come si chiama e non la riesco più a ritrovare che praticamente sai che noi abbiamo questi menu a tendine che fanno cagare immaginate se ci fosse un menu più snello cioè tu schiacci il menu e hai tipo una specie di zaino che ti esce e poi trascini dentro gli oggetti che prendi e li metti lì c'è una mod che ti permette di farlo così secondo me diventa più bello per uno perché alcuni mi hanno detto che è merda con le tendine così cioè sarebbe più bello giocarlo col joystick come come su play no con quello saresti molto cioè sarebbe più comodo anche sono quasi le 6 vai a vederla tv guarda sono più mi quadro buono guarda sono più mi quadro buono mappa sentite il mio santo se sono chiusi con la tenda che non va attivo per la porta è passato si ne passa un bel po' l'altro giorno mi ha molto il personaggio no quale dora dora jennings sono stato un coglione la prima sfiga che mi è capitata è questa qua io non lo sapevo se tu fai le scale per andare sul tetto della casa perché se poi tu ci metti il barriere di raccolta dell'acqua sopra ai lavelli della casa vai giù con la chiave giratubi vai dal lavello giratubi e praticamente l'acqua poi ce l'hai in casa perché dopo un po' sennò devi prenderla fuori per forza bene allora io faccio le scale apposta per andare su quando tu vai su tu vedi il tetto però quando sei esattamente sopra dove ci sono i lavelli l'umino cade e cadi dentro la casa a parte che ti fai male vabbè però non muore che cosa succede dopo io sono caduto proprio nel punto della vasca d'abagno ma non nel punto più cioè sono caduto dentro la vasca d'abagno e non c'è un'animazione che ti fa uscire l'umino è rimasto bloccato lì ho perso un botto di tempo per capire come fare poi ho trovato il modo che è molto semplice tu ricarichi la partita quando stai caricando la partita gli dici entra con un altro personaggio perché tu puoi fare in ogni partita puoi avere anche dieci personaggi bene sono entrato con un altro personaggio ho preso la chiave giratubi che ti serve per poter smontare la vasca d'abagno sono uscito ho chiuso la partita ho ricaricato con l'altro personaggio la vasca non c'era più ma l'umino era ancora lì e il giorno dopo sono andato al distributore di benzina a fare benzina e la sfiga ha voluto che uno zombie niente io non l'ho mica visto mi ha picchiato contro il finestrino e anziché fare la mossa di V e cambiare sedile per uscire da un'altra parte io sono uscito proprio da lì da dove lui stava picchiando e si è sentito craccio craccio ho guardato morso al collo porco zio eh ma mi avevo racerato due volte nel giro di 75 giorni e graffiato due o tre volte eh prima o poi però sono contento perché comunque insomma i 50 giorni che era il mio obiettivo sono riuscito a passarli e niente e voilà mi stavo vestendo tutto bello pulito e adesso riusciamo devo anche mangiare ok allora le muovere dov'è la padella mi faccio da mangiare perché ce l'hai fame a ver e poi c'è una mod bellissima che si chiama senso comune no tipo non so se c'hai un giubbino molto lungo molto grosso un vestito lungo puoi fare le tende anche da quello nel gioco normale non puoi se c'hai il coltello da cucina ti fa aprire anche le scatole col macete con la mannaia puoi aprire le scatole perché se no nel gioco base questo solo con l'apri scatola che se ci pensi è un po' una cazzata no si chiama infatti cioè senso comune perché ti permette di fare molte cose in più che se ci pensi puoi fare ma nel gioco sono un po' limitate ecco infelice ma che dolore infelice ma che dolore ah poi c'è tipo un'altra mod che ti aggiunge a sinistra un menu con delle barre che è praticamente sono gli stati dell'omino sete fame stanchezza che cioè lì hai proprio la barra lunga no e vedi quanto sta calando nel tempo eccetera eccetera cose che invece non vedi ti deve uscire l'icconcina sulla destra quando hai fame quando hai sete quando sei infelice invece lì c'è proprio la barra sinistra che è comodo ecco sono stomacale fatto meglio no quello verde sì allora vuol dire che finisco sempre finisco sempre lì vuol dire che ti stai trasformando ma no beh però è vero potrebbe anche essere che hai mangiato dello schifo o che no no non ce l'ho adesso non ho più ferite ho tirato via anche tutto beh devo mangiare però se tu ti togli i vestiti vedi un morso da qualche parte no magari c'è solo il graffio io l'ho tolti prima ma io devo assolutamente non ho un cazzo di apriscatola assolutamente devo venire a mangiare ecco non ho bisogno stai venendo da me sono dalla macchina del ranger dalla macchina del ranger non è mica a sinistra la macchina del ranger ma tu in quale caso sei trovando la terza ah beh ti stavo inseguendo i 50 zombie porca madonna sono qua di fianco a te guarda dietro 3 6 9 10 è perché erano tutti oltre oltre la staccionata diciamo scolta combattiamoli qua in fondo vaffanculo tu sei ah c'è il piede di puerco fuori euro ecco fatto la lancia l'arma più forte del gioco tutti da te vediamo cosa ci hanno accendino ottimo vitamine ottimo il mio personaggio è in panico totale 27 gradi e col veterano non vai mai in panico col veterano non vai mai in panico tu sei veterano? no 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 tu tu ieri sera voi due ah no 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 eravate veterani non ci vai no no io sono disoccupato abile occhi di gatto e corridore infatti io ho corsa all'uno guadagno anche di più nella corsa si bonus 75% sto andando avanti a pillo e sto andando avanti allora strappiamo qualche vestito ah io ho già l'attrezzatura per fare il cucito sartoria allora guarda che va di mangiare ah se riesce a farti da mangiare no molta pane ma io sbatto dentro qualche cadavere qua e là se sono freschi un sacco di strumenti di cucina ma creale purtroppo manca quello principale che è la briscatola sì quando non riesci a trovare qualcosa non la trovi mai è dio buono beh vabbè abbiamo iniziato a giocare due giorni fa è una partita di un'ora e mezza si va pensa che quella mia partita lì avrò avuto 50 ore di gioco quella che ho andato a puttare forse anche 60 l'ho iniziata a metà settembre quella partita la con Dora Jennings mangiare o mangiare te sei mai arrivato 20 giorni 25 giorni no credo insomma il massimo è stato 13 giorni 13 giorni comincia più o vabbè con il primo personaggio ah sì eh sei andato molto piano eh vabbè se sei stato morso tecnicamente guarda lì tu hai morso eh infatti viene eh se sei stato morso viene si però sei ancora stomacato stomacato infelice sei in panico eh ma magari ti ho detto magari ti hanno semplicemente graffiato o lacerato lacerazione c'hai una possibilità su quattro di venire zombificato lacerazione è grave cioè sono più le volte che ti va bene però se cominci a avere la lacerazione e un graffio non parliamo di due lacerazioni c'hai due lacerazioni c'hai una possibilità su due che diventi una zombie se non so tu cosa ci hai avuto però no 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 non ti capisco tu ti puoi curare e l'omino non ha più non ha più non è più in pericolo di vita immediato però l'infezione dello zomboid c'è e quindi tu dopo tre giorni due quello che è più ti curi più duri però poi alla fine arriva mentre se dia il virus che linda fa ti trasformi pian pianino non si scappa infatti lo vedi perché se ti esce nello stomacato in teoria da quello che so io dopo magari non c'è cura la cura non c'è bisogna riuscire a non farsi beccare se ti va male con lo stomacato alla fine ti trasformi che linda fa ma è un canovaccio non ce l'ho in casa genio scogliattolo morto congelato si perché l'ho preso nella macchina l'ho preso nella macchina del ranger dai allora adesso ho matto un dinter che devo abbassare la svizzera la svizzera si mette anche tanto f*** 40 attenzio pedale 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 musica sbarazzina si sta cucendo la nostra svizzerona nazionale ma io che cosa ho visto le case di fronte e basta tu non eri mica in quella più avanti a destra cosa tu non eri mica nella casa di là più avanti a destra erano vicini tu eri in una casa grande invece io sono andato in questa mi sa si in questa qua eri nato mi sembra una buona casa secondo me buono ho mangiato metà svizzera l'altra metà sei fame è qui dove c'è la bajur ottimo non riuscivo a metterla nella pentola quindi l'ho proprio presa e messa in forno così com'è faccio una tappa a vedere qui nella casa di fianco il cazzo c'è io provo un attimo a calmarmi vedere se riesco a trovare una soluzione cazzo quanti cazzo madonna di tutti che oh va capito cos'è ma quanti ce ne sono ricky problema è meglio che vieni fuori perché ce ne sono tre sei sette otto nove dieci dieci quattro quindici sedici dici sette diciotto 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 zombie si diciotto e non si mette bene no per niente quando esci di casa volta a destra ne ho ucciso uno uno si attento a destra a destra sono tutti lì stanno facendo il giro dietro la casa si sono tutti dietro la casa stanno picchiando contro le porte di casa fra un po' me li trovo in cucina non attirarne di nuovi non uscire perché se no ne attiri di nuovi ecco lì vedi girati verso di me ne hai tirati di nuovi beh ma cerco di scappare vai tra le cuore niente per guardarti una mano a terra che è inutile perché non muoiono attento ricky via ho fatto due passi c'era il mondo non so eh ciao non scappa neanche è perché è ferito forse si io sono anche vabbè vabbè due giorni che giochiamo cosa fai vuoi fare un nuovo mino o vuoi ricominciare ancora cazzo ma divento sempre stomacato io veni da qua ecco anche nell'altra partita che l'ho fatto qualche giorno qua non è che c'hai tipo tratto cagionevole più possibilità di essere eh eh ma anche l'altra partita ha stomacato perché do vali cazzo diventi ansioso vai in panico eh tal che me cosa faccio crea un altro personaggio come vuoi ricky io non ho problemi se no se vuoi resetto il server vuoi provare a scaricare qualche mod non so dopo però bisogna abilitarle e dobbiamo avere le stesse ovviamente no no giochiamo giochiamo faccio crea un altro personaggio come vuoi te ricky dove hanno fatto west point riverside e chi è che si ricorda non cambia tanto dopo ti chiamo allora stavolta faccio il dottore 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 ho anche due bonus tutto in casa che è pieno ah in casa è pieno ho appena visto al to al to al to al to al to io non ho più armi ci sono 18 zombie come faccio lo chiameremo essendo dottore robert neville detto neville pachock che è quello di io sono leggenda willie smith eh vaffan cutro quanta cazzo di gente c'è domani cristo nicolas mi sa che è meglio ritirarsi manca la svelta quanta cazzo di gente sto guardando dietro quanta cazzo di gente c'è come stai guardando dietro eh dietro sto vedendo sto vedendo il mio mino tipo si si che mi stavi attaccando si adesso è con un problema ah 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 e in caga è legenda oh proviamo a rimanere in giusta ah zio che bella di zombie che davanti la testa sta piovendo? si oh vedo un altro qua qua come mi santa s oh si si oh pinzola arrato e l'ELE e l'ELE Ah, che tuba luce. Ok. lascia allora allora stronzi iniziate a cedere vieni ti ho visto il cacciavite è andato il martello è andato il cacciavite è quasi ho l'ultima lancia eh non siamo stati il tuo minore ha delle lance torcia uh grande borsa d'escursionista via figa quella è buona questo era pure il leader merda si il leader i zombie hanno il leader cioè tipo ogni to zombie ce n'è uno che dirige dove c'è da andare come faccio ad essere sporco di sangue che non ho mai beccato più non sarà non è sangue ciao nico usiamo la pala figa la pala non la pala vieni stronzo che ora sono da te le 3 e 30 di notte stronzo sono qua stronzi ho un pittinio ok ok chi fa uccite non c'è un manio in questa casa eh per forse il bagno è che era partito allora chiudete madonna quanta gente sono utili eh quelli ah poi sempre nelle mod che ho scaricato è una cazzata cioè se tu vai tipo su nel menu inizial ti dice mod tu vai lì ok? e quando fai apri ti fa ottieni nuove mod qui tu schiacci lì ti apre un'altra pagina di steam collegata al tuo account che devi avere cioè praticamente siccome tu accedi al gioco con steam col tuo account di steam si avvia da lì il gioco c'è il tuo account dietro da lì c'è un menu enorme dove tu fai la ricerca e lì puoi cercare tutte le mod che vuoi la versione del gioco è la 41 tu ci metti su le versioni del più recenti basta che ti segui una guida anche abbastanza semplice ti consiglia non so quali sono le migliori mod da giocare perché ce ne sono tantissime quelle che migliorano il gioco poi dopo da lì tu le installi vai nel menu delle mod le abiliti e poi ricarichi il mondo delle tue partite per far sì che puoi giocare con le mod abilitate fra poco inizia il giorno sono quasi le 5 non so se non è capito che Dio lo manda è questa è la malaria con il caschetto bianco da operaio l'hai fatto ladro? lo usiamo come arma no no sono il dottore ah se ce l'hai vestito di bianco come il dottore no 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 potevi potevi farlo ma non l'ho fatto il ladro puoi farlo col passamontagna ah e poi ho scaricato Ravencreek che è una mappa più ci sono le mappe anche cioè praticamente quando ha ricaricato il mondo sai che all'inizio puoi scegliere tra le 4 città da me c'è anche Ravencreek sono 5 è una zona dove c'è il bosco adesso da me in quella partita lì non c'è più il bosco ma c'è è tipo a ovest di Riverside o di Rosewood non mi ricordo e il mio obiettivo in quella partita lì è arrivare lì voglio fare la base a Ravencreek anche se non ho iniziato a Ravencreek ma sono a Riverside ok comincia il giorno ho iniziato con lo zombie passato di fianco proprio alla mia neanda per un culo incredibile non mi ha visto ok piove ancora a manetta no ah andò ya eh si si comunque ci sono città dove tipo l'acqua tipo a riverside non c'è l'acqua vera e propria ci sono queste case in mezzo al bosco completamente isolate e lì l'acqua finisce dentro le case non è come se ci fosse l'acquedotto e l'acqua non finisce finché non la staccano e poi ho letto prima le impostazioni del server e va da un giorno a 30 giorni cioè la luce e l'acqua possono saltare da un giorno a 30 nelle impostazioni standard dopo tu puoi cambiarlo puoi mettere che c'è l'acqua e la luce per sempre se vuoi puoi mettere che l'acqua e la luce per 14.000 giorni ah sì sì puoi mettere un numero altissimo e cioè tipo perché alla fine qua sono tutti numerini è tutto un gioco con dei numeri per per le cose dico ma come te grande ma cristo c'era su ma hai cambiato canale te richie a casa a casa c'era sintonizzato su un altro canale mi sono perso la cucina della mattina ah caputana perché cercavo di abbassarmi la noia ah infatti io faccio partire di un modo non c'è non va aspetta c'ho l'asciugamano qua adesso mi asciugo e poi mi lavo anche faccio che la via ci va lava tutti i vestiti e comunque settembre io sono arrivato tipo a fine settembre quindi luglio agosto no scusi di più sì fine settembre 75 giorni quasi quasi ottobre sono arrivato nella mia partita cominciamo a fare freddo cioè fare un pochino più freddo quando sei pronto che vuoi venire qua devo andare a vedere un attimo nel garage c'è qualcosa ah c'è il garage buono buono tanto qua si sta lavando metto su del tè che devo bere roba calda la faccio è un'applauso la faccio è un'applauso Grazie. 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 Scusami, ma sono uscito un attimo. E' uscito, sono andato a mettere sul tè, a prendere uno straccio nuovo, perché mi sto soffiando il naso negli stracci. Non ho più carte in casa, non ho più fazzoletti. Stasera va a prendere la sopia, perché siamo senza. Oh, è seguita più ora? Sì, va. Allora, sto tornando nella casa dove c'erano zombie ricchi. Il mio obiettivo è ammazzare la zombie ricchi e romagli il piede di porco. Però, no. Com'era il tuo omino? Era verde? No, era... Avevi i capelli lunghi e grigi? Mi ricordo. No. No. No, no, era giovane, tipo. Aveva la... aveva la... la borsa aveva. Sì, la borsa. Eccolo qua! Ah, sì, sì. Pantalone grigli. Stupido, zombie ricchi. Figlia. Porca puttana, non cade. L'ho già spinto otto volte. Là. Andato. Portachiavi di spacewalker. Cazzo, stanno entrando degli altri negri. Quanti sono? Uno. Questo c'è anche un bel tracollone. Allora, allora, facciamo così. Mi piace l'uno contro uno, bastardo. Vieni qua. Vieni qua. Allora, intanto ricchi c'avevi la lancia. E il casco? Beh, il casco ce l'ho anch'io. La borsa la prendo ma te la lascio a te. Dola. Sparo se un po' il culo. Figa, avevi un botto di roba a te dentro qua. Che culo. Cacciavite, prendi. Borsone da lavoro, prendi. Eh, merda la roba. Trappole, prendi. Allora. Aspetta un po' di roba a te dentro. La borsa di... Oh, là. 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 Fadella. Figa, pensa che con la partita che siamo noi tre, mi sa che io sono giocatore di baseball. Quindi, devo usarla io. Tu avevi delle chiavi? Moh. No. No. Allora, ti prendo anche gli stracci sterilizzati e la pezza da mano. Ok, adesso mi sto spaccando la schiena. Ah, cazzo. Cosa voglia? Non, non. Cazzo, c'è un fucile addosso. Hai iniziato a usare le armi da fuoco per imparare? Sì, sì. Eh, se non hai la mira e... fai del gran casino e ne ammazzi pochi di zombie. Però le potenzialità sono enormi, eh. Quando mi cominciai a vedere delle armi a lungo raggio, magari... Fucile a pompa! Allora... Flash. Flash. Ah, un'altra figata! Che è una cosa ovvia, ma non ci abbiamo mai pensato. Che cosa succede? Allora, nella mia partitona, quella lunga, che adesso ho perso, andavo a caccia. Cioè, mettevo le trappole. Io, voi, ma quanti cazzo ci sono! Ma snap, venga. Madonna di Dio. Scappa su che ti chiamo qua. Dimmi tu, eh. Io ti chiamo quando tu mi dici... Sono nella merda, chiamami. Eh, magari tu ci sei passato, loro ti hanno visto le finestre, hanno iniziato a picchiare, poi dopo un po'. Però, non so. Deve essere. Bevi, Smigol. Allora, qui siamo piuttosto vuoti. Eh, sì, ciao. Ti chiamo? Sì, chiamami, dai, va, va. Allora, invita amici. No, scusami, eh, come cazzo si fa? Giocatore, qua, Riccardo Schi, te le trasporto da te. Io pazzo. Allora, qui c'è un casino alla donna, perché questa è una roba tua. Adesso sto cercando di rimanere un po' a posto. Capitana. Allora, il vetro rotto, buttiamo, buttiamo, muovere. Minchia mia, divido anche davanti da una colbanda. Oh, dietro, oh, sai che c'erano tutte le file di... Di buche. Le buche sono piene. Hai superato un po' il zombame. Ah, sì, che al dietro caso ce la davo 200, zio, va. Comunque c'ho, sì, c'ho la gamba che fa cagare. Devo sistemare i vestiti perché fanno schifo. Devono avermi mezzo graffiato, non lo so. Oppure ho preso dei vestiti rotti. Eh, potrei sbankerci. Adesso, ok, per uno zombi che mi ha strattonato per una gamba, Manteniamo le tradizioni, per favore. Allora, prendi il cappello da ranger. Me lo devo mettere perché... Quando giochiamo insieme, io gioco con il cappello da ranger. Fabio invece gioca con il casco da operaio. Vabbè, potremmo chiamare anche Fabio in questa partita, poi, eh, dopo. Non lo so. Sì. Eh, certo. Dai, che idiota, ragazzi. Certo, questa roba verde, eh. Eh, era la roba che c'era un po' te, che ho raccolto in giro. Adesso l'ho lasciata tutta lì e dopo la mettiamo a posto. Piede di porco. Parti elettrici, mi cammini. Eh, per fare la lasvelta, Ricci. Allora. Se vuoi riordinare un po' quella roba lì e decidere dove metterla. Comunque non è che abbiamo tutto sto spazio, eh, in quella casa lì. Cioè, non ci sono manco di mobili. Bisognerebbe riuscire a metterci qualche cosa nella sala. In sala ci starebbe un botto di roba. Cioè, il fucile a pompa. In sala lì ho tolto un botto di divani, quelle robe lì, che tanto non dobbiamo dormire. Prenditi l'olio. Eh, ci volevo un martello per iniziare. Eh, ce l'avevo, ma durante la grande... Lo scontro, il grande scontro, ho dovuto usarlo e è andato a puttare. Anche le lance ne ho rotte tre o quattro. Ho però la cosa, la... Ah, no, qui c'è un martello, aspetta. C'è? Ah, perché forse l'ho recuperato da te. Ah, no, martello rotto. È rotto, ah, ecco, ecco, ecco. Magari. Aspetta che mi nascondo un secondo, che devo andare a spegnere l'acqua, che il gatto ha finito di bere. Eh, sì, ci serve il martello e soprattutto la prescatole, sennò siamo un po' in difficoltà. Figa senza la prescatole e te. Lavorazione di taglio. Pronto soccorso tre. Vediamo come... No, mi figlio di bere. No, io pronto soccorso tre ce l'ho già, quindi posso lasciarlo. Baby. Vabbè, sai che modo ho scaricato poi? C'è una mod che ti dice lo stato di usura dell'arma. C'è che tu c'hai quel menu dove c'è 1, 2, 3, no? Lì in basso, c'hai 1, 2, 3. Immagina che tu lì c'avessi, non so, il coltello, la forbice e il macete. C'è un colore che ti indica lo stato di usura da lì. Perché se no tu devi andare sul menu là in alto, sul tuo inventario, no? Vedere gli oggetti che hai e lì ti dice lo stato di usura. Però perdi tempo per farlo. Invece se tu qui c'hai, non so, 4 oggetti, uno dietro la schiena e gli altri 2 nella cintura e magari una doppia fondina, quindi hai 5 oggetti, ti dice con i colori proprio, vedi proprio c'è un colore che va su e giù, ti dice lo stato di usura dell'arma, quando si sta per rompere. Allora, sto dicendo in caffetteria. Tu a che ora mangi, Ricky? Verso le 12 e mezza. Ok. Ah, tu sei a casa da solo, no? Sì. Ah, qui dopo puoi andare avanti? Sì, sì, sono a casa da solo. Burro da rapidi. Figlio, lo zaio dell'escursionismo è stata una bella mamma. Sì. È stata una bella mamma. Io c'ho ancora la valigetta del cazzo, la tua borsa, quella da 15. La mia borsa! Beh, non porta poco, 15 non è neanche così poco. Però mi sa che la riduzione dell'ingombra non è tanto però, sarà al 50%. Ah, ti ho ciulato la bottiglia d'acqua, quella non ce l'avevo, io infatti, il mio mio ha ancora sete. Necessita di bere continuamente sto idiota. Lisa Simpson, mitica. Ah, beh, poi c'è una mod per le animazioni. Tipo, se tu sei sul divano e fai, siediti, non può, no? Stai in piedi, si riposa. Invece là, no, là se la siediti, si siede proprio all'omino. O dorme, vi, vi... È bello strappato. Sì, 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 sì. Allora, facciamo l'angolo pattume. Potremmo anche lavare per terra, che è sangue da parte del... Ci vuole il mocio, l'acqua, la candeggina, non so se il detergente liquido serve per lavare per terra o per lavare i piatti. Boh, secondo me, vedo che c'è anche la spugna, quindi secondo me... Perché io sono sicuro che con la spugna e il sapone, quello della saponetta, consumi meno acqua nel lavarti. Però non so se vale anche questo concetto qui per il lavare in giro, lavare per terra. Vabbè, se c'è l'omino che ha la fobia del sangue, mamma mia, disastro. Sì, sì, è un casino. Ma perché diventi stomacato anche se appunto sei sempre sporco, sempre ingrattato di sangue? Non lo so, non ne sono sicuro, non ne sono sicuro. Allora, io non ho fame... Adesso usciamo. Zuppa i funghi scattoli. Anche a livello 1 con l'amacorta. Pronto soccorso livello 3. Io con le armi faccio cagare, non c'ho una sega. Ma perché non ho bonus con questo omino? Se lo fai disoccupato non hai bonus con le armi, quindi ci metti molto di più a salire. Ok, io dopo 75 giorni, e l'ho usata spesso la lancia, eh. Cioè adesso non sempre, ma parecchio. Ero al 2. Non ma sa di zombie, eh. Le ho uccisi più di 1000. 1018 mi sembra. Ah, cazzo. Allora, dopo dipende, ho fatto anche settimane a non uccidere nessuno perché volevo espandere la base. O ucciderne pochi. Ah, beh, ma per trovare roba devi per forza girare, quindi devi ammazzare. Per vivere le vecchie. Adesso in queste posizioni primi ce ne sono pochi in giro. Eh, sì, 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 sì. No, per trovare, non so, adesso appunto non abbiamo il martello, dobbiamo per forza girare a cercare questo cazzo di martello. La sega ce l'ho. Mi manca il martello. Allora, questa casa qua, che è quella di fronte alla nostra, l'ho già girata. Vediamo il piano di sopra. Io adesso sono andato in giro. C'è da andare in quella a sinistra, Ricky. Quella a sinistra da quella dove siamo noi. Ok. Che è quella dove c'è Ricky morto. Non ho finito di guardare quella che è da lì. Quella dove c'era la macchina del Ranger? Sì. È lì che ho preso lo scogliattolo morto. Dentro la macchina del Ranger. No, noi scherziamo, ma qui dobbiamo far scelta la svelta meccanica al 2. E' elettrica. E' elettrica e ci sto lavorando, ma... Figa, sono a 3 punti esperienza su 75. Avrò già smontato 8 orologi. 3 punti su 75, Ricky. Disostro. Eh, perché... Come fai a fare la serie della svelta? Ti serve il cazzo del libro. Finché non trovi l'elettrica all'1, ci metti il triplo del tempo. 5 caffenteria. Disostro. Guarda quanta roba che c'ho qua. Ma no, mi son tagliato. Ma come cazzo ho fatto? Ah, la siepe di merda. Ma che sfigato. Straccio sterilizzato. In testa! Sono passato nella siepe e si è tagliato in testa. No. Sono passato nella... Al collo. Al collo. Bacca puttana la vita come va giù. Ferito superficiale, sì. A tal credo. Allora, c'è del cibo freddo. Ah, ti stavo dicendo. Ah, ho trovato le priscatole. Boom. Allora, la scodella la prendiamo perché va bene per fare le insalate e quelle robe lì. Il forno a microonde ce lo abbiamo. Niente. Lasciamo, lasciamo. Allora. Poi. Che che è una cazzo da scala. Cazzo è un po' strano questo. Chiave giratubi. Subito. Dove sei, vai? Sono nella casa di sinistra. Ho guardato quella di fronte, ma l'avevamo già fatta. Nella casa di Ricci. È molto grande questa casa qua. Meccanica, volume 1. Come usare i generatori? Ma che culo di merda! Come usare i generatori? Là! E abbiamo risolto il problema di far salire l'elettrica a tutti i costi. Allora, cucina 3 secondo me c'è. Pronto soccorso all'1. Tu cosa c'hai di pronto soccorso? C'avrai dei valori alti. Cosa è? Allora, non ti serve un cazzo. Serve a me quello, effettivamente. Ce l'ho al 3. Io adesso sto leggendo, sto leggendo, sto leggendo Meccanica, volume 1. Sto leggimi. Questa è a Jimmy. Sono anche la fondina, la cazzo. Non è l'altro atto dopo lo so. Hanno svitragliato, hai sentito? C'è stato un colpo di mitragli in giro. No, non l'ho mica sentito. No? E' perché simulano che ci sono in giro altri sopravvissuti. Sì, sì, sì. Sartori al 3. Mi ricordo che avevo sentito l'elicottero. Le esplosioni. Sì, guarda quando c'è l'evento dell'elicottero è un casino. È meglio stare a casa. Perché l'elicottero manda in giro gli zombie. Se poi l'elicottero ti vede, inizia a volare sopra di te e... E gli zombie dovevo anche guardano. Vanno dove c'è l'elicottero. Dove c'è l'elicottero. Che fallo, ma leggere fa venire da mangiare? Beh no, è il tempo che passa. Cioè ti viene molto più fame se fai attività fisica o fai... Qualcosa di... Ricordati, la prima partita che l'ho fatto, ogni mattina facevo esercizi. Eh sì, ci sta. Fighi, no, in faccia. Non è proprio in testa, sì. In testa, ma in faccia. Palla da tennis. Guanti da box blu. Che cazzo di roba c'è di sta casa? Vivi. Ecco, il tel da cucina 2 è buono. Anche perché con questi qui ci fai le lance. Se trovi le assi, poi per limarle e farle diventare appuntite, usi i coltelli. Infatti io rompevo tanti i coltelli ed ero sempre alla ricerca di pietre affilate e rami perché con quelle poi fai il coltello di pietra. E col coltello di pietra, insomma, è come avere un coltello alternativo. Dura di meno, però... Eccoci. Allora, mettiamoci un po' di roba. Vuoi far da mangiare, Vicky? Sì, ma c'è soltanto della gran verdura. Crea salta in padella, melanzana saltata, con... Allora... Padella, qua ce n'è in giro. Una. Deve esserci per forza. 9, 26, 7, 11, 9, meno 10, tristezza meno 20, figata a porta. Devi cucinare di più. Adesso ti metto giù l'apri scatola e così puoi fare tutto quello che vuoi. Tutto ciò che devi fare se tu vuoi attraversare. Bello che hai messo proprio il libro sul... sul divano. Ok, di fuori. Ok, non abbiamo neanche il mobiletto qua in baia. Cioè, facciamo cagare, zio, va. Sì, sì, è vero. Che è tutto lì per terra, zio, va. Ho visto, ho visto. Dove li metto gli stracci? Ti ho acciolato tipo gli stracci sterilizzati. Dove cazzo li mettiamo? Vabbè, li metto qua nel ripostiglio. Non so dove metterli. Vabbè, io ne ho 11 stracci sterilizzati. Io ne ho 26. Fucina pompa. Ricarica fucina pompa. Madonna santa. Bocs. Allora, stracci, matiche. Allora, intanto qua c'è la sega da giardino, eh, se ti serve, Ricky. Ok. Qui nel ripostiglio, dico. Sto girando con il fucina pompa. Fratello, io sto girando con il fucina pompa. Sai che cazzo me ne fotte? Ah, va bene, in questa partita non ci siamo ancora salutati. Aspetta che ti saluto per bene. Cazzo si fa. Ma come hai fatto? Eh, vai, tieni premuto Q. Poi c'hai amichevole o stile? Amichevole. E poi c'hai applaudire. Ciao. Ciao. Eccoci. Mangia un quadro. Ecco, adesso vedi tu il teschio sopra di me? Vuol dire che sono in modalità o stile, eh? Cioè, perché noi potremmo ammazzarci. Se clicchi sul teschio... No, davvero. Eh sì, guarda che c'è anche il PvP. Giocatori contro giocatori. Cioè, c'è gente che... Cioè, ci sono server su con 100 giocatori a squadre, magari, che si stanno scannando in questo momento. Sparsi per uno dei mondi che hanno fatto. Non lo so dopo quale. A posto. Con tutte le città. Ho messo la spadellata... Allora, eh... Metto il crudo in frigo. Lo facciamo, eh, dopo. Ok. Questo significa che è mezzogiorno. Ah, viene freddo, sì. A stare fermi qua, sì. Prendi. Già che è l'interché? Niente, facciamo così. Tutto sto casino di roba che c'è qua... Per terra. Meccanica volumente. Sta salendo il meccanico. Mi dice che la pentaria continua a salire. Cioè, mi dà le frecce che salgono, però... No, no, no. Allora, quello lì è... Vuol dire che hai letto un libro e che quindi guadagni dell'esperienza aggiuntiva che ti è indicata lì. Se tu tipo vai dove ci sono le frecce, vedi che c'hai moltiplicatore per uno virgola qualcosa, due virgola qualcosa, tre virgola qualcosa. Vuol dire che in carpenteria tu hai letto, se c'hai tre, hai letto il libro che ti dà tre bonus, cioè ogni volta che costruisci smonti qualcosa, fai una barricata, ogni volta che fai un'azione di carpenteria, tu non guadagni uno di punti ma guadagni tre. Capito? E' un moltiplicatore di esperienza quello lì. Se tu dopo finisci e leggi il libro di livello 2, una volta che sei... hai due quadratini gialli, no? Quando ne hai due puoi leggere il libro successivo. Quel moltiplicatore lì sale ancora e mi sa che ti arriva a 5. Quando hai finito di leggere il terzo libro ti arriva a 8. Perché? Perché ogni volta che tu fai un'azione... se tu guardi ti servono sempre più punti per andare su. Tipo il primo è 75, il secondo è 150 e il terzo è 300. Quindi tu con quello continui, avendo letto i libri e le frecce indicano quello, eh? Tipo io in cucinare sono a livello 2 e ho letto il libro di livello 2 per salire al terzo e al quarto poi e sono a moltiplicatore 1 e mezzo. Questo mi fa capire che io devo leggere ancora il libro. Non ho letto tutto il libro. Ho letto solo un po' di pagine. Infatti se io vado a prendere il libro... Ah, l'ho messo via, non ce l'ho. Moltiplicatore 1,8 infatti adesso... Vuol dire che devi leggere. Tu devi ancora leggere... cioè devi finire il libro. Perché se no saresti a moltiplicatore 3 nel primo stage. Poi mi sa che va a 5 e poi mi sa che va a 8 negli altri stage successivi. Sto quasi fidendo adesso. Allora, io posso mangiare là? Ah, fai la cena di la tv, sono 6 e mezzo. Cazzo, ci sono... Ah, non ho visto un cazzo io. No, tardi. Tu hai fatto in tempo a leggere? Sì. Cioè ad ascoltare tipo la tv? Sì, era quello di sopravvivenza secondo me. Cosa ti ho dato? Pesca, costruzione trappole, cercare cibo. Allora... Che io ho già perso 2 kg io. Pesca. Pesca. Allora io l'apri scattole e te lo metto qui sotto il lavello. Non usiamolo mai, lo lasciamo sempre qua. Ok. Così poi quando devi cucinare... Piove da Dio, eh, comunque. Non ti dè che... Continua a piovere, Dio, no. Sì, sì. A me è capitato anche che per 10 giorni a fiera, quando sei lì senza acqua, giocare, non piove mai. E altre volte che piove sempre. Questo mese da noi in ottobre è piovuto abbastanza, comunque. Pia, ma qualca miseria. È piovuto 5-6 giorni... No, no, nel mondo, dico, da noi. Nel mondo vero. Sì, sì. Ci sono rimpianti tutti i fiumi, cazzo. Vabbè, quest'estate è piovuto poco, però. Finito. Moltiplicatore 2,7. No, allora non è ancora finito. Ti manca ancora qualcosina. Deve arrivare a 3. Teoria, poi non so. Ovviamente, poi, cioè, il moltiplicatore va a braccetto con altri moltiplicatori che magari tu hai del tuo vino. Tipo? Come usare i generatori. Eh, sì. È meglio che te lo leggi. Se sa mai che io muoio... Meccanica, volume... No, volevo farti capire questo, che oltre al moltiplicatore del libro, tu magari potresti avere un bonus per i tratti che hai tu. Non so, se tu sei elettricista, c'hai il bonus 100% di esperienza in elettricistica. Quindi, oltre ad aver letto il libro di elettricistica 2, l'elettricista, tutte le volte che smonta un orologino, io prendo 0,5 nel cazzo, lui prende 4, 3, non lo so. Perché c'ha il bonus del libro e il bonus del tratto personale. Quindi va ancora più su, lui. Il paggio spaziale, vediamo che cazzo... È un film, quello lì. Io sto uscendo, vado a fare un giro qua fuori, vediamo che cazzo... Ah, intanto qua c'è un generatore. Modelli d'auto. Dove ti tovi? Sono nella casa dove Enricchi è morto. Sono dietro là, che c'è il generatore. Sto prendendo il generatore. Prendi il generatore. Sono pesantissimo. Iga. Sono dalla macchina del Ranger. Sto andando a casa col generatore. Ovviamente sono, sono super pesante. Ma adesso piano è piano. Quindi. Generatore mettiamolo qua dietro. Boh, ma perché? Eh, poi sono migliorato molto anche nel gioco all'aperto. Cioè, nel senso... Dopo un po', non sembra, ma... Si iniziano a formare degli arbusti, delle piantine, dei cespugli. Sì. Eh, se rimuovi hai rami gratis. Ho trovato spesso la salvia selvatica, perché facendo salire il livello di ispezione, sai l'abilità dove cerchi la roba in giro. Più vai su, dopo lui comincia a trovarti le bacche. Poi comincia a trovarti i funghi. Poi comincia a trovarti tutte le piantine aromatiche per cucinare o per curarsi. Eh, è bello giocare di ispezione. Se sei il Ranger è molto... Parti già al 2. Ho trovato delle erbe, avevo trovato. Sì. Ho mangiato delle erbe aromatiche. Ah, hai trovato un po' nel casottino il generatore. Sì. Ah, vabbè, non c'è più niente. Ho tolto tutto. C'ho due zombie che mi stanno inseguendo qua dietro il culo. Sono molto bagnato. Li sto portando dalla macchina verde. Adesso farli ammazziamo. Dovresti vedermi lungo la strada. Uh, giacca di pelle. Quasi quasi. La strappiamo subito. Così facciamo... Devo prendervi il cibo. Devo mangiare qualcosa. Beh, se vuoi andare a casa c'è il... Cosa facciamo? Poi andiamo a vedere un'altra casa. Lai su? Sì. Più avanti qua ci sono due case. Tu vai in quella di sinistra e io vado in quella di destra. Uh, qui c'è una macchina anche. Et, diversi zombie. Tre. C'è anche un casotto nella mia. Allora, io non ci entro qua in casa subito. Prima la puliamo fuori. Allora, io non ci entro qua in casa. Allora, io non ci entro qua in casa libera. L'ho pulito da fuori. Hai ucciso gli zombie? Sì. Mi sto uccidendo anch'io. Ne sono diversi qua. Però è un sacco chiuso. Allora che questa qui abbiamo un'allarme. walkie talkie smantella. Oh, hanno lasciato una zucca qui su. cazzo ho preso tutta sta roba non mi sono accorto cavatappi un ago in cucina nebulizzatore da giardino vasetto vuoto mattarello lo prendiamo il mitico mattarello con lo sporco di sangue eh devi pulirlo è un po' sporco di cervello ma ragazzi ci avete 30 anni eh allora quindi non vedo quale sia il problema è brutto quando dopo due settimane che giochi o tre insomma salta la luce è tipo in un giorno o due tutto va a puttane perché praticamente il cibo ti va tutto a puttane a parte quello che è in scatola è il momento più tragico del gioco l'ho bruciata un pochino ma che zio stantio crudo casserola con la pasta già stantio la donna giochiamo da tre giorni beh però la pasta va portiamo a casa sono super pesante sto tornando a casa ma non ho finito di fare il giro non ho finito di fare il giro crudo pop corn cumo di brodo fagioli nei non ho una buona idea perché si è la facciatura adesso facciamolo perfetto dice che mi sono infettato no con quel cazzo di siepe di merda si vabbè ma non è non è non è zomboid sicuramente però rischio di ammalarmi non è il virus dello zomboid però mettiamo la pasta che sta andando a male subito qui la facciamo subito appizzati cucina volume 3 pesca volume 1 trappole volume è uno zomboid si liquido detergente non è c'era allora calzino non è un giro la pagina madonna che pelo ho quasi bruciato di tutto ecco ma dai ma vacca ma porca cosa è successo? ma fa fanculo ti ha morso? grazie sanguinamente sulla faccia sulla faccia? viene a casa va pezzo di merda stava spingendo una porta alla fine della notte si allora ti bisogna sempre stare molto attenti quando si fanno passatura prendi tutto tu non sai da quanto tempo lui lì che sta saccagliando la porta passatura prendi poi almeno solo un grafico una lacerazione una roba più grande ce l'abbiamo disinfettante qua casa come o no? ah secondo me no quella gioco l'auto ah che buon caso madonna ma che fan figa amato la madonna coltivazione all'uno ma quanto cazzo mi è salito? ma questo lui se l'ha accorto allora adesso mettiamo via tutta la zuppa zuppe varie oh buono a me serve un martello se lo trovi in giro eh beh certo pesa 4-5 kg che cosa lì le armi da fuoco sono abbastanza pesanti un pistone un chilo e mezzo una pistone la cazzetta degli attrezzi non c'è un cazzo dentro devi guardare la scegli e poi vai nel sottomenu e ti dice se c'è qualcosa beh se non c'è nulla puoi portarla a casa e magari lì ci mettiamo qualche attrezzo io adesso qua ho fatto ho messo il borsone nell'angolo c'è un martello sotto allora vuol dire che c'è dentro c'è un martello apposto allora la porta via anche questo occhio che se porti via quella pesa molto di più se invece porti e hai poi la è come che tu metti nello zaino la cassetta degli attrezzi pesa molto puoi mettertela anche in mano cioè tipo se tu stai andando a casa tu sai che c'hai braccio sinistro e braccio destro impugnatura primaria impugnatura secondaria fai impugna secondaria e quello lì come faccio a tirarmi fuori il martello però prova a fare doppio clic sulla scatola no non cazzo dice prendi cassetta degli attrezzi si si devi fare prendi cassetta degli attrezzi ok adesso dovete la messa nel menu quello di sinistra no sotto la scatola adesso clicchia su quello lì ok e dovrebbe saltarti fuori quello che c'è dentro no non c'è niente niente allora chissà perché c'è il martello sotto no vuol dire che c'è per forza se c'è il martello sotto c'è per forza se no sarebbe vuoto prova a portarlo a casa che ci guardo io prendi nebulizzatore da giardino hai trovato dei bidoni per caso in giro no 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 la seguita più no oggi mi sento mi sta sul cazzo buttare nel cesso la chiave di giratubi eccoci vai 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 le fatene squai allora la penna rotta buttola via io mi sa che tra poco ho provato qualcosa da mangiare si nella vita reale si io ce l'ho già fatto da ieri quindi mangio dopo dopo fra un po' se vuoi possiamo andare avanti ancora un po' mi do un attimo una lavata anzi no scarico per me tutta la roba kit da cucito con dentro due oggetti tutti i contorni quelli scusami tutte le salse che aiutano quella roba lì non non ti dà niente in realtà ti diminuisce la tristezza la noia la ma non ti dà niente quella roba lì non ha calorie devo trovare una bottiglia poi c'è un pomodoro e una pesca ho trovato la bottiglia di disinfettante nel bagno qua su e anche il sapone e anche le pinzette poi invece che cazzo c'ha altro sapone antidolorifici cerotti oh no si si quello serve tutto cazzo eh si non ho anche pastiglie custodia per chitarra guanti senza dita no si lo è già qui che cazzo c'ha non ho niente devo andare anche a cagare nella vita reale sai che una bella cagatina allora tu magari lo sai io non lo so perché ci ho provato una volta ma non ci sono mai riuscito a farlo la radio so che ti dice le condizioni meteo del giorno dopo però non so in quale in quale canale quale stazione lo dice e quando sai che non lo sapevo mica questa cosa qua si si però non so in quale canale c'è un canale che lo fa però non so gli orari in cui te lo dice capito e la radio va a batteria quindi dopo un po' devi ricaricare la batteria non la sapevo mica questa cosa qua tipo con le batterie quelle che usi anche per la torcia ne ho trovata una in una casa adesso la porto a casa e la mettiamo qua così magari con la radio accesa cala di più la noia tipo piazzala qua allora dove sei no 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 radio posiziona minchia batteria 18% ah perché era già acceso eccolo qua kentucky radio non ci sono tanti canali però c'è nnrd e il canale d'emergenza allora io metto fuori la casseruola che tanto è vuota qua c'è la ciapa l'acqua questo è l'end allora ispezione rattoppiamo il buco va che c'è un buco nei jeans fame 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 fascia pura sporca rimuole fascia pura hai la disinfettante di chi? si che me lo do adesso ecco ottimo ottimo su sta finendo di cuocere ah no aspettate che mettiamo il sapone qua questo è perché dobbiamo lavarci ne metto uno qua e uno in bagno sapono per terra no no non è per terra è sopra il coso no in bagno è in bagno eh sarà difficile metterlo su devo metterlo per terra per forza chiudi il barone eh si è là per terra comunque manciare 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 mancia qua allora un altro coltello da cucina lasciamo qua allora il buco me lo sono rattoppato tra l'altro proprio si vede proprio nel punto in cui in cui ti si svancula disinfetta da chi è disinfetta allora ispezionare ok boh bella nikki vado a prepararmi da mangiare si adesso mangio anch'io adesso sto 12 e peggio se vuoi pizziamo dopo dimmi te perché ora più più tardi allora dopo viene un attimo qua fa un salto alice beh vabbè ti faccio sapere non ti preoccupare va bene va bene si ciao 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 nikki ciao tu scendo ciao Grazie.